ciao a tutti e bentornati nel mio canale oggi ci rilassiamo un pochino con un video tag che mi è piaciuto tantissimo perché è strutturato in un modo un pochino diverso dal solito sono domande divise per categorie casa lavoro youtube e makeup si intitola le 5 domande mix io l'ho visto sul canale di consigli smart però è stato ideato da ellis channel ovviamente vi lascio tutto giù in infobox partiamo subito con la prima domanda della categoria casa quanto tempo dedichi alle pulizie della casa io le grandi pulizie quelle tanto impegnative non le faccio tutti i giorni ma le faccio solo una volta ogni tanto invece le pulizie quotidiane quelle non so del bagno della cucina del pavimento togliere un pochino di polvere dai mobili le faccio più o meno quotidianamente o al limite un giorno sì e un giorno no se magari la condizione del pulito è ancora accettabile e più o meno in mezz'ora 40 minuti 45 di solito ho finito però questo è un tempo molto ridotto perché è molto ridotta a casa mia nel senso che io ho una casa minuscola ho soltanto tre vani e quindi ovviamente avendo solo tre vani si fa anche molto prima a pulirli domanda 2 pulisci solo tu in casa generalmente sì il mio compagno ogni tanto mi aiuta magari pulisce il pavimento toglie un pochino di polvere dai mobili però generalmente sono io quella che si occupa delle pulizie inoltre non ho neanche mai voluto la donna delle pulizie perché mi dà fastidio che una persona metta le mani nelle mie cose e soprattutto mi darebbe fastidio avere una persona che mi gira per casa mi darebbe proprio fastidio perché io lavoro da casa quindi mi disturberebbe non potrei proprio sopportare una cosa del genere quindi preferisco fare tutto da sola domanda 3 ti capita di tralasciare qualcosa da fare sì mi capita se magari ho meno tempo se devo lavorare ovviamente mi capita di iniziare magari una pulizia un pochino più impegnativa e poi di non riuscire magari a finirla quel giorno lì e di lasciarla per il giorno dopo soprattutto mi capita quando devo svuotare magari dei pensili magari comincio svuotarne uno poi ho in mente di fare anche quello a fianco non ci riesco quindi quello a fianco rimane così com'è magari poi lo faccio il giorno dopo però insomma si fa quello che si può perché le ore di una giornata sono soltanto 24 e in quelle 24 ore devo farci stare un sacco di cose tra cui magari anche dormire alla notte e quindi faccio quello che riesco domanda numero 4 cosa non trascuri mai non trascuro mai il bagno e la cucina la cucina ovviamente intendo i fornelli il lavandino il piano cottura sono cose quelle che non trascuro mai perché mi piace vederle pulite soprattutto in cucina una cosa che pulisco sempre subito immediatamente sono i piatti quindi io lavo subito i piatti non li lascio mai nel lavandino per ore oppure addirittura per tutta la notte per poi ritrovarmeli la mattina dopo quando mi alzo assolutamente io mi alzo da tavola la prima cosa che faccio è lavare i piatti credo in questa cosa di aver preso un po da mia nonna materna perché anche lei era così anche lei i piatti li lavava subito non ho mai visto nemmeno un bicchiere da lavare nel suo lavandino e quindi secondo me l'ho presa un po da lei domanda 5 hai mai pensato di non voler più pulire ti annoia farlo non mi annoia nel senso che quando pulisco il tempo passa anche abbastanza velocemente però non mi piace quindi non mi annoio ma non mi piace perché non è comunque così divertente mettersi a pulire preferirei fare dell'altro non ho mai pensato di non pulire più perché se io non pulissi più dovrei vivere comunque nello sporco non è una cosa che mi piace passiamo al settore lavoro ti piace il tuo lavoro sì mi piace è un lavoro semplice non è un lavoro particolarmente sofisticato io faccio la segretaria virtuale perché lavoro da casa e facciamo tutto online io lavoro con aziende che operano solo ed esclusivamente online e io mi occupo di assistere i clienti dell'azienda quindi sono proprio una segretaria rispondo alle mail mando magari dei documenti carico dei documenti nel database dell'azienda quindi insomma mi occupo di questo non è chissà che cosa però a me piace lo faccio volentieri un lavoro tranquillo mi permette di fare poi tutte le mie cose quindi di occuparmi dei miei hobby e di avere un pochino di tempo libero quindi sì lo faccio volentieri domanda 2 lo cambieresti mai attualmente no dico attualmente perché io lavori ne ho cambiati tanti nella mia vita non sono mai stata stabile nel lavoro sempre fatto cose diverse e un lavoro l'ho sempre mantenuto anche per poco tempo non ho mai lavorato 10 anni 15 anni di seguito nello stesso posto sono un pochino instabile quindi posso dire che in questo momento io non lo cambierei perché non è nei miei programmi mettermi a cercare un altro lavoro però se fra tre anni quattro anni cinque anni quelli che saranno mi capiterà un'altra proposta e magari questa proposta mi piacerà comunque mi accorgerò che non so potrebbe essere una cosa per me soddisfacente potrei sicuramente valutare e magari perché no anche decidere di cambiarlo però in questo momento comunque no però mai dire mai domanda 3 da quanto tempo lavori questo lavoro io lo faccio da un anno e mezzo però che sono entrata nel mondo del lavoro più o meno è da quando avevo 19 anni a parte qualche momento in cui sono stata un pochino più ferma a 19 anni il mio primo lavoro è stato volantinaggio quindi sono partita da una cosa molto classica e poi da lì ho diciamo fatto anche altre cose lavori un pochino più importanti magari lavori un pochino meno impegnativi insomma dipende ne ho davvero cambiato tanti e non posso stare qui a fare l'elenco perché altrimenti il video viene lungo tre ore domanda 4 quanto tempo ti occupa il tuo lavoro io lavoro sei ore al giorno cinque giorni a settimana però ho la possibilità di gestire l'orario perché è molto flessibile quindi queste sei ore le posso fare quando voglio generalmente però faccio le mie sei ore dividendole tre al mattino e tre al pomeriggio poi dipende dipende dagli impegni comunque è bello avere la possibilità di gestirlo con questa flessibilità domanda 5 cosa avresti voluto fare diciamo che io avrei voluto fare tante cose perché poi ho fatto davvero tante cose ho cambiato tanti lavori quando magari mi era venuta un'idea ho sempre provato a concretizzarla quindi sicuramente non ho rimpianti perché tutto quello che mi è venuto in mente di provare a fare poi l'ho fatto magari è andata male magari poi non mi piaceva non era dato a me però io ci ho comunque provato quindi in questo senso sono soddisfatta e non ho rimpianti adesso passiamo alla categoria youtube cosa non ti piace di youtube unica cosa che non mi piace tanto è l'indicizzazione dei video perché secondo me non è molto equilibrata ci sono video che hanno tantissime visualizzazioni video che quasi non ne hanno perché rimangono nascosti perché le persone non li trovano e quindi insomma quello magari mi piace meno però non dico che sia per forza colpa di youtube magari sono io che su determinati video non riesco a mettere i tag giusti non riesco comunque a farmi trovare nel modo giusto quindi non so in realtà se dipende da me o se dipende da youtube però è l'unica cosa che più o meno mi disturba perché per il resto a me va abbastanza bene così com'è domanda 2 che tipo di video ti piace guardare a me piacciono tantissimo i video di viaggi quindi io ne guardo veramente tantissimi video di viaggi poi mi mi piacciono i video che parlano di libri di film di serie tv mi piacciono anche i video acquisti video spesa quindi quelli un pochino più leggeri in cui magari si può prendere anche qualche spunto perché io tantissime volte ho provato dei prodotti nuovi perché magari li ho visti su youtube e mi sembravano interessanti da provare poi mi piacciono anche video tag perché ne faccio anche tantissimi quindi vedete che sono tipologie di video che comunque sul mio canale sono presenti e li vado anche a vedere ovviamente quando li fanno gli altri queste più o meno sono le categorie poi ovviamente dipende dall'argomento ci sono tanti argomenti che magari adesso non mi stanno venendo in mente ma che poi vado a guardare domanda 3 che tipologia di video ti piace fare di più più o meno tutti quelli che sono presenti sul mio canale ci sono perché sono video che comunque mi piace registrare però ci sono alcune categorie che sono un po le mie amate categorie quelli del mistero quelli dei tarocchi e anche i video tag perché attraverso i video tag posso farmi conoscere un pochino di più e rivelare qualcosa di me a chi mi segue quindi anche questi li faccio molto volentieri infatti ce ne sono tantissimi video tag sul mio canale domanda 4 sei contenta di aver aperto il canale sicuramente sono contentissima di aver aperto il canale mi ha proprio ridato il sorriso mi ha fatto superare un momento difficilissimo quindi sì comunque vadano le cose in futuro io sicuramente non mi pentirò di aver aperto il canale perché anche se poi dovesse non piacermi più dovesse stufarmi fare video dovessi cambiare idea dovesse succedere qualsiasi cosa comunque quello che è stato fino ad oggi io non lo rimpiango poi ovviamente il futuro non si sa come potrà essere però fino ad ora sì sono contenta passiamo alla categoria makeup domanda 1 ti trucchi sempre sì mi trucco sempre perché mi piace lo faccio molto volentieri mi piace guardarmi allo specchio vedermi in ordine vedermi truccata quindi sì mi trucco sempre domanda 2 cosa non può mai mancare nel tuo makeup l'ombretto l'ombretto è una di quelle cose che non possono mancare mi piace tantissimo ritengo che dia al makeup un tocco in più che comunque illumini lo sguardo è una cosa che sì mi piace moltissimo l'ombretto quindi quello non può mai mancare domanda 3 che tipo di trucco non utilizzi io non utilizzo la matita per sopracciglia un po' perché sono pettinata in questo modo e quindi a malapena si vedono ma poi anche perché devo dire la verità non mi piace tanto definire le sopracciglia con la matita io le ho molto sottili anche per natura le sfoltisco appena appena ma diciamo che le ho abbastanza sottili e mi piacciono al naturale non mi piace andarle a definire con la matita perché mi dà un'idea di finzione esagerata quindi non mi piace non mi è mai piaciuta sinceramente domanda 4 usi le ciglia finte no non le uso perché io ho le ciglia lunghissime di natura e quindi le ciglia finte diciamo che non sono necessarie poi inoltre avrei anche un po' paura nel momento in cui le devo togliere perché mi verrebbe proprio l'ansia di togliere anche le ciglia vere che ci sono sotto lo so che magari è una mia paranoia e poi non succede però mi fa un po' senso devo dire la verità ultima domanda un makeup look che utilizzi per tutti i giorni quello che vedete adesso è un makeup look che io utilizzo tutti i giorni quindi mascara ombretto matita matita interna intendo poi utilizzo la cipria utilizzo il fondotinto utilizzo la terra utilizzo rossetto quindi insomma tutto quello che c'è io lo utilizzo e quindi è un makeup completo e il look è sempre lo stesso nel senso che più o meno è quello che vedete magari quello che cambia il colore del rossetto il colore dell'ombretto perché magari quelli di cambio anche quotidianamente però diciamo che più o meno la struttura è questa questa era l'ultima domanda il tag finisce qui mi è piaciuto molto vorrei taggare tutti semplicemente perché non so chi l'ha fatto e chi non l'ha fatto quindi rischierei di taggare qualcuno che magari l'ha già registrato sentitevi tutti liberi di farlo io come sempre vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e vi mando un bacio enorme